Il Gran Ballo d'Inverno Il Gran Bazzanzante che rientra nelle celebrazioni per i 50 anni della regione che ha visto la salaviglione di Palazzo Lascaris ritornare ad essere il salone in cui fino alla fine del 1700 si tenevano sontuosi balli nobiliari. Musica dal vivo, tour del palazzo, buona cucina, ma soprattutto tanti ricordi riaffiorati con la vista delle foto dei matrimoni proiettate su un maxischermo e su tablò mariaggio stampati per l'occasione. Il primo incontro è ancora vivo nella mente degli sposi e avere tanta pazienza sembra essere il trucco per arrivare alle nozze d'oro. Come si arriva a 50 anni di matrimonio? Usando la tecnica dell'elastico, tira e molla. Un po' si tira, un po' si molla e si va avanti. Volersi reciprocamente e rispettare si arriva a un primo traguardo dei 50 anni. Rispettarsi a vicenda e cercare di essere tolleranti uno con l'altro. Cercare di smussare gli angoli che ogni tanto si presentano, cercare di cambiare. Cercare di condurre una vita serena, senza arrabbiarsi tanto e far scorrere le cose brutte diciamo. Si ricorda la prima volta che ha visto sua moglie? L'ho conosciuta, sono 55 anni fa praticamente, in un paesino della Val Barai, Tavenasca, alla festa del paese. Il primo incontro è venuto il 6 febbraio, di 5 anni prima ai Cappuccini. Quindi per me il febbraio è il mese particolare perché mi ricorda quello. Nel primo incontro ai Cappuccini il 6 febbraio, quindi siamo vicini. Dentro un bar, Piazza Carducci, ero appena congelato militare e l'ho vista lì veniva a prendere il gelato. Piazza Carducci in un bar e mi offriva il gelato. C'era un altro mio compagno di lavoro e ho detto avete chiesto queste due cose? No ma vieni con me che andiamo, anche lui voleva la testa, no dico l'ho chiamato io, questa è mia, è 50 anni che è mia. Grazie a tutti.